Avrebbero ottenuto il monopolio dello spaccio di stupefacenti nelle province di Brindisi e di Taranto arrivando anche nell'Eccese attraverso un serrato controllo del territorio e una fitta rete di relazioni che avrebbero coinvolto anche rappresentanti delle istituzioni tra cui due agenti della Polizia Penitenziaria e un ex maresciallo dei Carabinieri. E' il quadro ricostruito dai Carabinieri del ROS che ha portato all'arresto di 15 persone ritenute responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga, detenzione e porto illegale di armi. Gli indagati farebbero parte del gruppo Lucchese con base a San Giorgio Ionico nel Tarantino. Le indagini sono state condotte anche grazie a un collaboratore di giustizia operante in Lombardia e legato alla cosca andranghetista Falchi Trovato Schettini. La misura cautelare è stata disposta dal Tribunale di Lecce su richiesta della direzione distrettuale antimafia a seguito del lavoro investigativo condotto dal raggruppamento operativo speciale Carabinieri. Stando a quanto comunicato dagli inquirenti, al vertice del gruppo Lucchese ci sarebbe un 48enne originario di San Giorgio Ionico al quale era affidato anche il rapporto con i vari fornitori di stupefacenti. Il radicamento del consorzio criminale sarebbe stato tale da riuscire a infiltrarsi anche nelle istituzioni. L'operazione, denominata Taros, è in continuità con quella omonima eseguita a marzo del 2021 che portò all'arresto di altre 16 persone con l'accusa di spaccio operanti nello stesso territorio.